Io con Don Ciotti e Don Luigi faccio un percorso da tanti anni nella mia città con i sindaci di avviso pubblico. Nella mia città è stato per me un faro, un punto di riferimento quando ho dovuto fare le denunce per estorsioni, per usura, quando siamo riusciti a liberare tanti commercianti, operatori economici dal cappio della criminalità organizzata. Le sue parole oggi mi hanno emozionato, mi hanno fatto piacere.